La lottizzazione della zona di Eloro rappresenta per noto un argomento che ha diviso a mità l'opinione pubblica tra coloro che caldeggiavano un no alla lottizzazione per tutelare la zona boschiva che si trova nell'area e coloro che invece caldeggiavano un sì affinché si potesse costruire per poter dare nuovi posti di lavoro. Il Consiglio Comunale si è riunito pochi giorni fa e ha stabilito invece di dire no alla lottizzazione con 10 voti a sfavore, un solo voto a favore e ben 9 astenuti. Oggi siamo qui con il dottor Aldo Tiralongo, consigliere del PD, che ha votato no alla lottizzazione e che ci spiegherà i punti salienti della questione complicata e lunga della lottizzazione di Eloro che nasce già nel 1991. Sì, io ritengo che la decisione del Consiglio Comunale di votare no alla lottizzazione nella zona di Eloro Pezzuta nasce dalla consapevolezza che le cose vanno votate nel rispetto delle regole. Anche il falso mito dell'occupazione doveva essere perseguito attraverso il rispetto della legge e delle regole. Una prima legge, una prima regola fondamentale è rispettare le distanze dall'eventuale macchia mediterranea. Il sindaco ha chiesto alla forestale delle indagini per verificare se lì ci fosse una macchia mediterranea e eventualmente quale fosse la distanza da rispettare. A fronte delle indagini della forestale noi abbiamo prodotto degli studi, tra l'altro confermati anche dall'Università di Catania, che individuano in quella zona una macchia mediterranea estesa 10,36, conseguentemente in forza della legge regionale 16 del 1996, la distanza da rispettare è di 200 metri. Queste distanze non c'erano, per cui ritengo che in forza di questo il Consiglio Comunale, a sa grande maggioranza, ha deciso di votare no a questa proposta di delibera. Grazie.